Il prossimo avversario dei Lupi è la neopromossa Gelbison, squadra di Vallo della Lucania, in provincia di Salerno, emigrata per le sue gare casalinghe, prima a Pagani e adesso ad Agropoli, presso lo stadio Guariglia. Una società ben organizzata, dove è facile trovare i suoi pulmini in giro per il Cilento, volto a valorizzare anche i giovani presenti all'interno del suo settore giovanile. Un percorso certamente non facile, ma che diventa un punto di riferimento per il territorio, con la sinergia nata con tante realtà locali. Intanto la squadra, allenata da Fabio De Sanso, ha iniziato bene la stagione, nonostante la sconfitta all'esordio contro la Juve Stabia, ma la seconda giornata riuscì a strappare un punto importante al partenio contro l'Avellino. Fatto sta che, dopo un avvio positivo con avversarie che hanno arrancato, la Gelbison ha occupato per buona parte del genere di andato un posticino nella griglia dei play-off, prima di corrare al quindicesimo posto, con le ultime due sconfitte ottenute contro Monopoli e Juve Stabia. Nell'ultime sette gare il club di Valle della Lucania ha ottenuto tre sconfitte e quattro pareggi, con la vittoria che manca dal 13 novembre contro la Turris, dove la squadra di De Sanso si impose con il risultato di 1-0. Fatto sta che questa gara è importante per entrambe le squadre, anche se con ambizioni diverse. La Gelbison non vuole crollare ulteriormente in classifica, con la zona play-out che dista solo due punti. L'Avellino ovviamente vuole continuare il suo ruolino di marcia, puntando alla parte alta della classifica per mettere da parte il girone di andata nefasto, che ha condizionato in negativo la stagione fino a questo momento, con i bianco-verdi reduci da sei risultati utili consecutivi. Focalizzandoci però sulla Gelbison, la squadra a finora è sempre stata una squadra difficile da affrontare, con spazi molto chiusi e una squadra che mantiene alta la concentrazione. Un vero bomber non esiste nella squadra di De Sanso, dato che le punte De Sanso è fornito, hanno segnato rispettivamente tre gol ciascuno, con altri sei compagni di squadra all'attivo con almeno un gol. Certamente non parliamo di una squadra con una grande capacità realizzativa, con soli 14 al gol all'attivo e 19 gol subiti, con un negativo di 5 gol, ma di un club che in questo momento sta perdendo certezze nel reparto arretrato, che ha subito sei gol nelle ultime due partite, dove aver subito un solo gol contro il Crotone in quattro gare. L'Avellino quindi non dovrà sottovalutare l'avversario, che già nella gara di andata ha dimostrato di difendersi bene ed è capace di sfruttare le poche occasioni che si vengano a creare.